Erano convinti di aver ricevuto il vaccino Pfizer quando invece gli era stata somministrata una semplice soluzione fisiologica. Potrebbero essere almeno 30 i casi di pazienti tratti in inganno dal loro medico di base a Falconara Marittima. Sul caso ora indaga la squadra mobile di Ancona, coordinata dalla procura per le accuse di falso ideologico e lesioni commessi da pubblico ufficiale. Perquisito lo studio del medico per acquisire la documentazione. Tre pazienti si erano insospettiti, dall'esitazione del camice bianco al rilascio delle attestazioni di vaccinazione da una serie di inesattezze sul tipo di vaccino inoculato e sulle date del richiamo. In base ai documenti e alle testimonianze sono diversi i pazienti coinvolti e di varie fasce d'età. Alcuni di loro sono stati già identificati dagli inquirenti che sospettano però la presenza di altre persone ignare di aver ricevuto una vaccinazione fittizia. La squadra mobile, diretta dal vicequestore Carlo Pinto, sta cercando di chiarire anche come e quando siano stati utilizzati dal medico i veri vaccini in dotazione. Secondo fonti investigative l'uomo avrebbe detto agli inquirenti di averlo fatto per accontentare i propri pazienti che lo oppressavano per essere vaccinati e di non ricordare però a quali di loro avesse somministrato il vero vaccino anti-covid.